Le scarpe antinfortunistiche Garsport sono state progettate utilizzando le migliori tecnologie per garantire sicurezza, comfort, durata e qualità. Queste scarpe leggere e comode ti proteggeranno anche negli ambienti più pericolosi, per i lavori più pesanti o rischiosi. Fondata nel 1972 da due artigiani appassionati, Garsport nasce come piccola azienda di produzione di calzature da neve. L'azienda da allora ha ampliato e diversificato la propria produzione e oggi progetta scarpe antinfortunistiche, agroalimentari e da trekking. È riconosciuta per la sua continua innovazione e per l'affidabilità dei suoi processi produttivi, garantendo elevati standard di qualità. Oggi come ieri, la passione per l'artigianalità e la cura dei dettagli sono al centro della realizzazione delle scarpe Garsport. Garsport, scarpe di sicurezza e da trekking progettate e prodotte in Europa.